Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Teleitalia. Vediamo il primo sondaggio dell'anno, 4 gennaio 2020, fatto da Tecné per la trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro. La Lega è al 23,2%, rispetto esattamente a un anno fa, al 4 gennaio del 2020, scende dell'8, meno 8,5%. Il PD di Nicola Zingaretti è al 20,1%, distanza di 3,1% dal primo partito. In un anno, esatto, ha guadagnato lo 0,8%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il terzo partito con il 16,8%, in un anno guadagna il 6%. Il Movimento 5 Stelle è al 14%, in un anno ha perso l'1,5%. Balzo di Forza Italia addirittura al 10,4%, con un incremento in un anno del 2,4%. Poi abbiamo La Sinistra al 3,2%, guadagna lo 0,5% in un anno. Azione di Carlo Calenda al 3,2%, guadagna lo 0,9%. Italia viva al 2,9%, in un anno perde lo 0,8%. Nonostante tutto il baccano e il teatro che fa Renzi perde quasi l'1%. Mentre più Europa all'1,8% guadagna lo 0,2%. I Verdi sono all'1,5% perdono lo 0,2%. Altri partiti messi insieme, 2,9%, guadagnano lo 0,2%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.